E allora ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus e bene se mi avete dimostrato che il gioco vi piace e quindi io ve lo voglio provare Ci facciamo una bellissima serie, ogni tanto caricherò qualche nuova missione, io sono andato un pochettino avanti, infatti se non sbaglio ho raggiunto il livello 5 Ma non vi preoccupate, torniamo andate e ci rifacciamo le missioni che io ho già fatto per farvele vedere Però vi faccio vedere una cosa, che cosa ho acquisito Ecco qui, ho già acquisito altri poteri, e cioè Attacco Lampo, ma sta scritto Frettoloso, vabbè lasciamo stare Ma si chiama Vortice Spirituale, lo leggete Fuoco della Fenice e poi Lama del Coraggio, non so perché lui la chiama diversamente Non vi faccio vedere la prova, perché secondo me la cosa migliore è vederla nel gioco, perché è galattica Comunque andiamo con le nostre missioni Per cui giochiamo Come vedete io dovrei stare lì, ma vi vado a rifare praticamente le missioni che non ho fatto con voi In maniera tale che poi potete apprezzare il gioco Vai! No, qui Rigioca Ho sbagliato, scusate Qui naturalmente si possono scegliere anche i vari poteri Che possiamo utilizzare nella missione Vi faccio vedere i quelli nuovi naturalmente Ok, quindi qui possiamo scegliere In pratica, vi dico già in precedenza Che si poteva scegliere soltanto Clay e Messi Perché erano praticamente usciti poi nelle altre missioni Però io vi faccio vedere proprio come ho giocato io E scegliamo prima Clay e poi Messi Oh, arriviamo con il nostro caro armato Vai! Questo è Clay, eh Ok Vediamo, visto che l'abbiamo già visto Vi faccio vedere come si comporta Messi C'è un bel martello Però sinceramente io preferisco di più Clay Comunque Iniziamo subito dal combattimento E li distruggiamo un po' tutti Ok, già fatto fuori Ok Oh Sì che lancia le bombe Oh, attenzione Vediamo se riusciamo Ok Dai, scatena la tua ira Dai, scatena Ah, ah, ah Ok, vai Perfetto Attenzione perché sono cattivi Appena raggiungiamo Ok Ho scoperto che in pratica è necessario acquisire anche queste monetine Perché in pratica ci possono Li possiamo utilizzare per rinforzare poi le varie parti della nostra armatura Ci prendiamo la nostra crocchetta di pollo Attenzione Cerchiamo di combattere Oh, oh, oh Sti bastardi Attenzione C'è guerra dappertutto Appena Vai Andiamo col vortice Guarda lì, guarda lì Ah Distruggiamoli tutti Ok Sembra tutto fatto Oh, oh Ce ne sta uno Attenzione Questa c'è una Questa è una bomba Attenzione Vediamo se riusciamo a beccarlo No Ma che cavolo sta lanciando Attenzione Ci ha becchiato Ah Attenzione Vai, vai Colpisci, colpisci Non ci facciamo fregare Vai Spada della virtù Spada della virtù Dai Non lo so Io preferisco più clay Ora vi faccio vedere subito la differenza Secondo me clay è più forte Non ce lo dai questo Cambiamo infatti E vi faccio vedere come si comporta Che lo vedo anche più agile La crocchetta ce la prendiamo Tanto ci serve Ok, vai Attenzione Attenzione Attacca, attacca Vai Oh, oh, oh Attenzione alla bomba Attenzione alla bomba Sto bastardo Oh, cazzo Questo è enorme Attenzione Appena riusciamo ad acquisire un po' di potere Vai Ah, troppo lontano Ok, becchiato Attenzione Che cazzo ci lancia? Attenzione Porca miseria Vai Vai Becchiato in pieno Alla grande Perfetto Ci becchiamo Anche la nostra Energia Crocchetta di polo Manco per niente È un po' ambigua come cosa Però Dobbiamo radunare tutti i Nexonites Aaron è il prossimo Ok Infatti siamo cresciuti Adesso praticamente Siamo già a livello 5 Ecco tutti questi servono Li possiamo utilizzare poi per impiegare Vi faccio vedere poi dopo successivamente Come possiamo impiegarli All'interno dell'armatura Per migliorare poi Le varie parti Ok Vediamo se si può già migliorare No Non si può migliorare È praticamente questo a destra Dello scudo Che ancora non è Possibile selezionare Ci rifacciamo anche quest'altra missione E vai Ok Perfetto Io andrei a cambiare È soltanto questo Che Sì Mi piace praticamente di più No Li abbiamo già selezionati Ok Io penso che questi poteri Siano abbastanza buoni Quindi possiamo andare avanti Naturalmente anche qui Avevo già scelto sempre Clay E a questo punto Non so se utilizzare poi anche Iron Vabbè dai Prendiamolo Così lo proviamo anche subito All'azione Che è armato Oh è bianco Merlock Vai Clay A questo punto Utilizziamo iron Non ce lo dai Eh giustamente Sembra abbastanza Oh Cazzo Non me lo ricordavo Perché me l'ho fatto un po' di tempo fa Oh questo spara Ah sì sì Mi piace Attenzione Attenzione Vediamo se riusciamo Ah ecco Infatti è ottimo Soprattutto perché spara dalla Cazzo Quanti ce ne sono Spara dalla distanza E quindi Può essere Attenzione Porca miseria Ragazzi Questi fanno sul serio Ci ha lanciato una bomba addosso Porca miseria Ok Prima parte l'abbiamo superata Ce riprendiamo tutti Lo possiamo anche potenziare Ah 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 Quindi per adesso Opterei Per Clay Cocchetta di pollo E anche Aaron È abbastanza bravo Soprattutto perché In pratica Ci permette di colpire Dalla distanza Attenzione però Soprattutto questi qua Che c'hanno i cannoni Vai col vortice Dai dai Succhiamoli tutta l'energia Questi mostriciattoli Tanti mostriciattoli Vai vai Ok Attenzione Attenzione Oh c'ho Porca miseria Ok ce la facciamo ancora Abbiamo ancora l'energia necessaria Sparami Vada lì L'abbiamo distrutto Oh 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 C'è una bomba Ok Vai 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 È piccolino ma Vada che abbiamo Il potere giusto In potenza Carico Dai Dancene tutti vai Crocchetta Presa Appena arriviamo qui Mi scateno subito Il mio potere Vai 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 Meno male che siamo abbastanza forti Da poter... Attenzione, spostati Vai, spara È quasi morto, è quasi morto Fatto, fatto Ah, ah, si è ridotto in tanti mostriciattoli Ok, ce l'abbiamo fatta alla grandissima Dammeli Dammeli tutti Che mi devo potenziare poi dopo Ok, mi sa che la crocchetta non ce la dai Perché abbiamo finito Yes Oh, che bella armetta che c'ha Aaron Ok, quindi abbiamo raggiunto Penso a stesso livello ci siamo raggiunti Ci siamo, ci siamo, ci siamo E cavolo, siamo quasi anche al settimo Siamo andati abbastanza bene Quindi abbiamo raggruppato un bel gruppetto Infatti è probabile che possiamo anche migliorare qualcosa Ok, vediamo se si può migliorare qualcosa Ehm, no Ancora no Evidentemente non sono ancora sufficienti Per raggiungere il nostro potenzamento Comunque ragazzi Spero come sempre questo video vi sia piaciuto Non vi dimenticate sempre nei commentari Se non vi mette un mi piace Noi ci vediamo Nel prossimo video E bye bye